Ci mettiamo qua e siamo noi e voi, ce la cantiamo, ce la sfogliamo, ci divertiamo, a me penso, per me è consatto fare il momento spiaggia, il momento acustico, perché è qua che si vede tutto, e poi è qui che sentiamo con lui, principalmente. Oh, Zappa, vedete? Sì, è vero. Non si vede nel corso, eh? No, te fai, te fai. No, ti fai, te fai, te fai, te fai. Sì, prende il cielo dentro l'acqua immobile, ferma tutte le parole, domandarsi cosa faccio. Sì, è vero. 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 Sì, è vero.